Ciao a tutti ragazzi, allora oggi ho deciso di fare una nuova partita con il nostro a mezzo in Princess Sarah L'abbiamo lasciato un po' così indietro, però non avevo intenzione di interromperlo Quindi riprendiamo subito dal punto dove avevamo rimasti, quindi carico la nostra partita Oh, eccoci qua Allora, puntualizziamo il fatto che non mi ricordo, un cazzo Quindi speriamo di andare piuttosto bene perché Non ricordandomi nulla, tutto è problematico, ma non è detto Oh, e levati? Levati! Ehm, ok, no perché Oppure io mi devo ricordare Oh, ciccio Non fate scherzo, mamma mia questi Faranno due da danno però, insomma, non stress Ah Ah Ho dimenticato che non era il giochino di primo pelo Un giochino piuttosto tostarello come sempre Questo pesa come pochi, cicciottino Non saltiamo un cazzo, quindi via, lancialo perché È impossibile proprio Due al prezzo di uno Non mi è piaciuta Non so, mamma mia pure la donna di fuoco Oh, mi prendi la signora di fuoco? Grazie Eh, io ti odio Ti odio Ti odio Ti odio Mori Oh, hai stufato, basta L'avete stufato tutti Devo sempre arrivarci Al limite proprio Al limite umano E ha dove una bomba È stato il sito Niente Era ovvio No, così ripartimo Siamo ripartiti veramente male col gioco Ma veramente male Ecco Oh Che coglioni Niente È proprio È odioso Non ero d'accordo Oh, va Allora Vabbè Quell'altro Non è proprio il caso Guarda Era meglio se facevo Un gameplay Di Topolino Arretrato difficoltà anche in quello No, che coglioni Mamma mia È che è È da cagato il cazzo Mica l'ha detto nessuno Ma lo dico io Guarda Guarda Sti pepisterelli Sono veramente I peggio Guarda Cercato pure di schiole Non ci sono riuscito Non è aria Qualcuno l'ho detto Io lo ripeto Levati dalle palle Te Arciere Coglione Fuori dal cazzo C'è verso Tempistica Zero Non sono mai stato Per la tempistica Ora ricominciamo Con questi pezzi Dove devi saltare Preciso No La vincuro E non intersecchio Zitto Bravo Siamo attenti Non ci posso credere Cioè Non ci posso credere Sono ritornato all'inizio Mi tocca rifare tutto il pezzo Che pizza Che pizza Tutta colpa dei pipisterelli Schifosi Pisterelli Bambbe morite mai Pistrellacci Cioè poi non ci posso credere Da 76 Sto a 46 Cioè Ho preso più sganassoni In questa Partita Che mai proprio Oh Devi fare quello che chiedo io No quello che dici te Madonna Sì Non fare ELEVATE Puffolo 7 levi grazie grazie oh che palle ecco famo così figlio la pedana senza saltare saltare fa male ok abbiamo fatto un bel save point la cosa ci dovrebbe abbastare oh senti mannaggia le succubi e a chi le ha inventate no io a te lancio fai help brava oh ecco in un'altra oh guarda che siete veramente fastidiose eh no non sono d'accordo la mia no ma cacchio che è sto sergio non lo voglio dammi sto stupido che pedirei frecce almeno c'ha un minimo di utilità ma vedete ce l'aveva un minimo di utilità via via altro punto di salvataggio oh ok no 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 signor pipistrello vada via guarda io vi odio pipistrelli in merda vi odio vi odio possibile che state sempre in mezzo ai piedi a ay Ah, sì, giusto Che pizza Io ti odio Anche a te Oh, mamma mia Ok Ok Ce l'abbiamo fatta anche in questo caso Speriamo bene Allora, qui abbiamo un po' di roba Però sono full, quindi è inutile usarla Oh, guarda Non esistiamo io questi, eh Guarda, che bastardo Questa è un po' di roba Che è proprio un bastardo di prima categoria guarda che testa appongola vieni qui fanculo te fantasmi fantasma formaggino spalmo sul panino guarda come oh c'è proprio la sfortuna mi sta proprio non ci riesco non ci posso credere ma guarda che bastarde pedane del cazzo bastardissime pedane con calma con calma ce la facciamo che la facciamo Questa si rialza Facchiamone un altro Ming Siete dei bastardissimi dentro Siete dei bastardissimi dentro Ma niente Vabbè ragazzi Ho deciso che concludiamo qui il nostro video Perché purtroppo Se no viene un video troppo lungo Noi ci vediamo al prossimo appuntamento Con a mezzo in Princess Sara Da Luzenk è tutto E noi ci vediamo alla prossima Ciao